A riscosso tanto successo e partecipazione il Domina Beach Soccer Tour a Cerignola, tappa estiva scelta per le giornate di sabato 13 e domenica 14 luglio dopo le tappe in Egitto in quelli Sharm El Sheikh. Nella cornice di Piazza Duomo, trasformatasi in un'arena di sabbia per l'occasione, tanti adulti e bambini hanno preso parte all'importante manifestazione che ha visto uscire vittoriosa l'Italia. Guidati dall'allenatore Iorio e da vari ex campioni di Serie A, quali Di Livio, Di Michele e Marchetti, gli azzurri hanno avuto la meglio in semifinale contro l'Honduras e in finale con la Croazia giudicandosi di fatto il trofeo alzato al cielo dall'ex Juventus e Fiorentina Angelo Di Livio. Dal campionato europeo femminili under 21 di pallavolo al giro E, passando per il torneo di Padel internazionale fino a questa prestigiosa manifestazione estiva, Cerignola ha risposto ancora una volta presente e si è fatta trovare pronta. Un evento che ha suscitato tanto interesse e coinvolgimento in cui l'amministrazione comunale ha creduto molto offrendo il massimo impegno, serietà, organizzazione e disponibilità.